In Vodafone Business mettiamo l'innovazione al servizio delle aziende. Per questo OVS ci ha scelto come alleati della trasformazione digitale. Insieme abbiamo creato il nuovo OVS ID per dialogare con i clienti. Con il Wi-Fi Evoluto li abbiamo messi al centro di un'esperienza coinvolgente. Con i totem digitali possono chiedere capi e taglie senza confini tra negozio e online. Con i Vodafone Analytics i comportamenti dei clienti guidano l'assortimento dei negozi e le nuove aperture. Perché chi basa il proprio business su qualità, creatività e innovazione non aspetta che cambino i tempi. Li anticipa. Vodafone Business. I tuoi clienti al centro. Le nostre soluzioni smart per il retail.